un saluto a tutti e bentornati su Zenith Factor rietroci qua con DSOV3 siamo appena arrivati ad Asura per salvare il padre di Marcus seguiamo il tunnel ok via allora vediamo perfetto sono già le locuste di me allora facciamo farvi una bella imboscata quando sono qua davanti BOOM anche il treno sono professional qua allora minchia merda il treno esagerato ora dove cavolo andiamo? ania c'è un modo di aggirarla? ania a call ania a call passo la radio è andata finché non disattiviamo il maelstrom terrò comunque aperto il canale ania ania sei tu? qui parla adam fenix mi senti? professore si la sentiamo oh grazie a dio prescott vi ha trovati vedete la telecamera? si può vederci professore ania oh sei cambiata dov'è marcus? ce l'ha fatta vero? papà sono qui sono qui per portarti via eh bello rivederti dom è con te? ma come ti sei fatta quella cicatrice? dovremmo rimandare dove sei? sono chiuso nel mio laboratorio nella torre dell'hotel dovete farmi uscire così potrò attivare le contromisure resta poco tempo marcus ci occuperemo dei vermi papà resisti no mi riferisco all'emulsion la forma di vita splendente sta per raggiungere uno stadio critico va assolutamente distrutto prima che giunga alla maturazione e annienti la vita su sera cosa intendi con stadio critico? non è carburante marcus è un organismo vivente trasforma tutto in splendenti noi compresi è un parassita quindi si può eliminare? sì esattamente mirra vuole che adatti le contromisure per distruggerlo senza danneggiare le locuste ma non c'è tempo per questo dobbiamo prima disattivare il maelstrom per far atterrare i rinforzi dove andiamo? c'è un treno che vi porterà dritti alla struttura già ma abbiamo un problema il tunnel è bloccato bisogna girarlo deve esserci un tunnel di manutenzione collegato posso aprirvi la porta da qui andate alla spiaggia da lì dovreste riuscire ad avvistare la torre papà prova ad aprirlo ottimo siamo dentro marcos parlavi di rinforzi siete solo voi due qui ci sono anche Sam e Jason presto li incontrerai se siete solo in quattro trovate un silverback vi servirà la zona è pesantemente difficile allì ho visto ho visto ho visto Oh cool, pezzo di svegliato Merda, hanno davvero rinforzato la porta? Già, nemmeno il silverberg vuol bracci Oh merda Papà, c'è un'entrata posteriore? L'accesso è bloccato Quale è lì? Sulla planimetria, Barcos Continua a cercare dei pressi delle caverne Quell'affare davanti a noi deve esserci un modo Grazie, sta polizia Merda Ok Siamo di nuovo in fuga, le lupuste sono penetrate nel ferroviario Si sono barricati bene, ma non per noi Hanno paura degli splendenti So cosa si prova Forza andiamo, seguiamo le rotaie Sai cosa si dice nella luce alla fine del turno? Parli delle mansioni assegnate Che c'è un treno in arrivo dall'altra parte Via tutti dai minuti Era un po' più di velocità Ok Uff Oh merda Ci hanno visto Eh, ora sanno che siamo qui e dove siamo di lì E vai Merda E vai Merda Papà Siamo in una zona di carico vicino ai binari Dobbiamo salire in cima alla scogliera C'è... Un ascensore sul retro Ok, lo vedo Oh cazzo Sta maledetta struttura Il suo ascensore è poco simpatico Con tutti gli scienziati Non c'è da stupirsi che siano scomparsi Li credevamo morti Già, proprio così Eh, sicura Ragazzi Questo non è l'ultimo piano Forse è un'imboscata Forza Occhi aperti Nemico avvestato Respingiaboli Vargos Ti seguo dalle telecamere di sicurezza Trovo la scala di servizio Porca miseria Siamo cercando Ma allora, un che cazzo di colpi sanno per far fuori questi obietti Nooo Ok Abessere qua Ci stiamo qua! Oh, merda! Per gli strozzi! Deve morire! Mamma mia, ma che roba qua! Siamo vicino alla struttura, bene. Starco, se ci sono uno, due, tre generatori da disattivare nel sotterraneo. Speriamo tre generatori, oh cristo. Sarà un puttanaio assurdo, i soldi. Eh, infatti... Seguiamo l'area, ragazzi. Seguiamo la sala del generatore. Oh, cazzo. Capito che posto è. Dovrei occuparti di diverse autori per disattivare l'intero generatore in più fasi. Ma lì dentro troverai le locuste da aspettarti, Marcus. Per me va bene. Papà, mi dispiace. Dovevo salvarti. Ci ho davvero provato. No, Marcus, ti prego. Sono io che devo chiedere scusa. Sono la causa di tutto. Ora lo so. È morto, papà. Dom è morto. Marcus, vorrei riportarlo indietro. Ma tutto ciò che posso fare... è assicurarmi che abbiate un futuro. Non vi deluderò stavolta. Lo prometto. Emulsio. Vabbè. Per il momento è tutto, ragazzi. Nel prossimo disattiveremo il Maestro. Spero che il video sia piaciuto. Un saluto a tutti. Alla prossima. Ciao.